Ma che cosa è diventato il giornalismo periodico? Il giornalismo periodico è diventato semplicemente la pubblicità della pubblicità. Mi spiego, se voi sfogliate uno dei periodici che attualmente vengono diffusi, molti dei quali anche di nobili testate, vengono diffusi gratuitamente, allegati a quotidiani o ad altro giusto per giustificare una grande diffusione, se guardate questi periodici vedete che il ruolo dei giornalisti è semplicemente di riempire i buchi che ci sono tra una pubblicità e l'altra. I giornalisti nei periodici attualmente stanno facendo la pubblicità della pubblicità. I giornalisti